COIDORI Allegri presenta il primo girarrosto con alimentazione USB Posizionate COIDORI su un piano solide o orizzontale, vicino ad una presa elettrica Prendete il cavo USB in dotazione Collegate un estremo alla porta USB di COIDORI e l'altro alla presa di corrente 220V La spia luminosa indica il corretto funzionamento di COIDORI Campeggio, picnic o gita fuori porta? Nessun problema Possiamo servirci di COIDORI attraverso l'utilizzo di un power bank il notto sistema di ricarica portatile per smartphone Basta collegare l'estremità del cavo USB a COIDORI e l'altra al power bank Ora COIDORI è pronto per cuocere anche alla perda COIDORI COIDORI Arrostire differente COIDORI 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 COIDORI